Destinazione mare, sei quello che conta e che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Giuro l'ultima stagione Mentre suona la canzone Ti ho scritto per curare il tuo dolore Il tuo dolore Ti ho scritto per curare il mio dolore Un buon giovedì 24 agosto Si avvicina il fine settimana Noi siamo pronti come sempre per tenervi informati sugli eventi da non perdere Partiamo dal comune di Montesilvano Questa sera vi aspetta uno spettacolo di varietà con Fabrizio Fasciani e Daniele Dianni Vi mettiamo i 90 Mentre al porto turistico Marina di Pescara inizia il festival delle birre artigianali abruzzesi In programma da oggi fino a lunedì 28 agosto Giunto alla sua ottava edizione Fermenti, 5 giorni di degustazioni emozionali Ottimo cibo, intrattenimento, musica live, corsi, workshop e soprattutto birre artigianali Tutte diverse tra loro ed ognuna con la propria storia da assaporare Ci racconta tutti i dettagli il direttore del porto turistico Marina di Pescara Bruno Santori Ascoltiamo. E torna anche Fermenti l'attesissimo appuntamento 5 serate dedicate alla buona birra Soprattutto la birra artigianale perché è una manifestazione che nasce con l'intento di valorizzare Le produzioni brassicole artigianali della nostra regione Dopo la prima sperimentale edizione ci siamo resi conto che è un filone È un settore di grandissimo sviluppo che ha visto una crescita qualitativa e quantitativa della produzione Abruzzese e noi siamo contentissimi di aver accompagnato questo movimento Nel suo sviluppo, nella sua crescita, nel suo successo degli ultimi anni Se ne è accorta anche la regione Abruzzo che ha promulgato una legge dedicata alla produzione di birra artigianale Abruzzese e quindi noi non possiamo far altro che ripetere questo appuntamento Che ormai è diventato tradizionale Un incontro con la birra artigianale abruzzese Una valorizzazione di questo prodotto accompagnate da seminari, workshop Quindi un momento formativo per chi vuole avvicinarsi al mondo della birra Ma anche naturalmente buon cibo e buona musica E per oggi è tutto, vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia E vi ricordo che potete segnalarci tutti i vostri eventi scrivendoci a tgestatechiocciolareteotto.it Una buona estate insieme a noi qui su Reteotto Destinazione mare Sei quello che conta e che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Giro l'ultima stagione Mentre suona la canzone Ti ho scritto per curare il tuo dolore Il tuo dolore Ti ho scritto per curare il mio dolore E' un'ultima stagione E' un'ultima stagione E' un'ultima stagione E' un'ultima stagione E' un'ultima stagione